3 luci. No, 2. 3. 2. No, 3. 2. Allora, 2 più un riflettente. No, 2. 2, semplici. Madame, non lo trovo noioso questo gioco? Assolutamente. Non mi emoziono affatto. Due luci? Cioè due luci bastano per creare un set? In questo caso è esattamente così. Ho piazzato una luce principale al 100% della luminosità con un diffusore, un softbox, con davanti anche un nido d'ape che permette di concentrare un pochino di più la luce. E dietro arriva la luce di un altro faretto al 10% della luminosità, i due faretti sono uguali, senza diffusori. Bucio di culo! Ciao!